We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ciao! Luci, fai vedere il tuo pansetto rasato. Ecco il mio pansetto rasato! Amore! Hai sete? Ciao! Allora, siamo stati dal veterinario e il veterinario l'ha trovato bene, sempre meglio. Dobbiamo fare le flebo fino al 20 di gennaio e a giorni alterni, no? Il cortisone va scalato, quindi a giorni alterni dobbiamo continuare a fare queste flebo. Ecco, così va un po' meglio. Io ho mangiato panettoni a non finire, infatti si vede qua? Bella faccia un po' ciccia. E Lucy dai, sta meglio, è sempre lui, non è proprio al 100%, per esempio non è venuto a fare il pranzo di Natale col nonnino di sopra, è il primo Natale che facciamo senza luci, che si apparecchiava sempre. Andate a cercarvi i video di Natale, ecco qua l'uccino. Lui è buonissimo, sta bene dai, facciamo tante cure, tanti integratori, prendiamo tantissimi integratori, croccantini epatic della Hils, che gli piace, devo dire che la Hils, quando si tratta di crocchini dietetici, ha un sapore che riesce a farsi mangiare da tutti i gatti, ve lo dico, perché magari vi può servire questa informazione. E poi che vi devo dire del nostro amico Lucy, dai che dobbiamo andare avanti così, lui mangia omogenizzato al merluzzo, con la siringa, l'umido si stufa, si è stufa, si è stufato dei bocconcini di petto di pollo, si è stufato dei bocconcini di manzo crudi, ho preso tante scatolette, lui ci mette il muso e poi va via. E allora se le mangia così di cicciobomba, è vero Lucy? Chissà cosa sto facendo, non vedo, che cacchio di inquadratore sto facendo, boh. E insomma così, ah ma qui manca il microfono. Sono dimenticata di attaccare il microfono, ho attaccato il microfono, ecco meglio per voi, con la mia voce squillante, non vi ho assordato prima. Lucy, 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 amore sei serio? Lui sempre qua, vedi, vedi che mi hai buttato giù tutte le pecorelle, vedi, chi è stato qui, chi vuoi che sia stato? Lucy, Lucy è stato. Guarda. Ecco. Per il resto cosa vi devo dire, che spero che abbiate passato delle buone feste e ricordatevi di sostenere il canale. Ormai io non vado neanche di cento in cento, vado già di centinaia, adesso siamo a 2250, ma io non dico neanche raggiungiamo i 300, io dico già raggiungiamo i 2500. Ecco quello che dico io. Lucy, vuoi mangiare? Questa è la pappa di Mosi. Ti interessa questa pappa? Vedi, mi illude. Mangia che sei in diretta. Mangia per le zie. Oggi non gli piaceva, eh? Non ci prendo mai. Bravo. Fatto per voi questo. Dai, mangia. Dai, bravo. Dicevo, continuate a sostenere il canale. Come? Iscrivendovi, facendovi iscrivere, condividendo i più possibili video. Non dove ci sono io, per favore. E se volete acquistate un super grazie, così ci aiuterete a pagare le spese veterinarie, che ancora non sappiamo quando finiranno e quante sono. Ma l'importante è che Lucy stia bene. Grazie. Un bacione.